dopo una bella giornata di lavoro facciamo una bella fettina di prosciutto e voilà guardate che roba, sempre meraviglioso questo è il nostro classico scrofa di scintasenese un buon calice di San Giovese e diciamo che ci possiamo rilassare sono quasi le 9 di sera comincio ad essere veramente molto stanco vediamo un po' wow wow non mi immaginate il sapore che ha questo prosciutto qualcosa di particolarissimo allucinante, veramente allucinante wow diciamo che dopo quasi 12 ore di lavoro ci sta tutto buona serata a tutti ciao